Beh un problema, aspettate un attimo, datemi due secondi Abbiamo un problema, ma che significa? Ma che significa? Non ho capito Perché? Oh, mi fai sciopà No, ma secondo me ragazzi c'è troppa gente che sta sciopando Secondo me CiccioGamer sta ancora caricando soldi Deve essere sincero con voi Dai, ma se ora mi stanno scommando Vabbè mi avete detto di livello 14, livello 15 Livello 16, sono sempre a livello 12 Mi fanno prendere per il culo Dai, a me mi aspettavo almeno livello 13 Io non ci sto Dove cazzo stanno i miei baule? Datemi i miei cazzo di baule Mi stanno scammando Sì, apri sto cazzo di baule Dai, vaffanculo Sì, apri quest'altro baule No, sto sculando? Te la dà sicuro? Nicolò, a me nessuno Me la dà sicuro, stupida di me Cioè, voglio dargli le stelline Come faccio a dargli le stelline? Minchia, 5.000 stelle? So poche Ne ho 130k Un mio amico livello 12 ne ha preso 200k Eh, ma non ho tutto il cazzo Ma che avete tutto il cazzo più lungo di me? Chi ha fatto il livello 14? A chi ha fatto il livello 15 che non esiste? Eh, lo prendo in culo Ok, mi dite cosa shoppare? Beh, mi conviene shoppare questi, no? Tutto Eh, tanti soldi non sono vostri Le mortarci vostra Eh, grazie al cazzo che mi dite tutto bastardi Però Vanno bloccata la carta Non posso mangiare più Andiamo a vedere Andiamo a vedere No, allora I soldi ci sono, confermo Beh, è un problema Aspettate un attimo Datemi due secondi Aveva un problema? Che significa? Che significa? Non ho capito Perché? Oh, mi fa shoppare No, ma secondo me ragazzi C'è troppa gente che sta Secondo me CiccioGamer Sta ancora caricando soldi Deve essere sincero con voi Facciamo qualche partita E poi riproviamo Allora, vediamo Vediamo, vediamo Ora prende il cazzo Ma quello Quello lo prendiamo a prescindio Perché ci piace Non ti preoccupare Ma noi abbiamo perso una torre Ma lui ora si può difendere? Domandina Domandina che mi viene proprio spontanea No Uh, guarda No, la strega ci perdo sempre Se è la più bella Ma mette la gelo Lo sapevo io Ma perché è così alto? Scusate Devo farlo per forza ragazzi Devo farlo proprio per forza Perché si si difende un attimo Eh, ho perso Ho appena perso Grazie mille Grazie mille ancora Metico Daaa Che noia Taravita Noi ragazzi Mi può salvare questo Devo attaccare Ragazzi Lui ma ho metterà qualcosa Lì per vinci Sono troppo forte Sono sempre più forte È incredibile Ah ma noi dobbiamo arrivare ancora a 6.000 Seventy five years later Ci sono Livello 13 Potevano mettere gli eroi A livello 14 Non 14 Comunque Però logicamente Volevano indurre a shoppare Quindi ci sta Non lo nego Secondo voi Se il potenzio Tutte Tutte E dico Tutte le carte Ci arrivo Serve 3.750.000 D'oro Con 100 euro Poi shoppare 300.000 200 600.000 900.000 Sì Manda Te rubava Quanti soldi so Ma se la mo Guarda Livello 13 Mi piace Livello 13 Mi piace Cioè Secondo me Siamo bene Al 13 E il 13 È il nostro numero Ciao Facendo tutto È bene Ua Sono stata una carta Non indifferente Della difesa Per la difesa Ok Non è lo stesso deck Di prima Ve lo dico già Assolutamente Però ho preso Lo stesso Del cazzo No ho vinto ragazzi No non può fare niente Non può fare bravo niente Ho vinto Può fare assolutamente Un cazzo Troppo forte Easy Vabbè ragazzi Non so che Ho capito che è da qua Ma perché se la devono Prendere con quella Vabbè L'ho fatto Vaffanculo Oddio Ho sprecato un botto Di riservo Noo perché L'ho mandato di là Aaaaa Mi è male che c'è Quella che mi cura Posta Eh ragazzi La visione di un campione Siamo a 6.000 Siamo ritornati a 6.000 Finalmente Guarda tutto d'oro Questo pezzo di merda Poi devo buttare Una 3 Questo non è cambiato Ragazzi Scusate Perché non è cambiato Allora Fatemi pensare un attimo Questo è il deck Che Perdevo sempre Perdevo sempre Deve perdere la torre, ragazzi, se non mi ha perso Che bello tutto d'oro, però, vi devo dire la verità Godo, bastardo, chi ha perso, eh? Chi è che ha perso? Affanculo Fatti il drago? Ma minchia, il drago quanto cazzo costa, adesso Io sono tirchio Guarda qua quanto cazzo mi è costato sto drago No, le fresce no, mi faccio, no Ho fatto tutto Ho fatto tutto Tutto Ciao